Presidente Andrea Annunziata, la comunità portuale e il comune capologo tutti insomma si dividono sul commento il giorno dopo l'accorpamento tra l'autorità portuale di Salerno e quella di Napoli. Qual è il suo commento e soprattutto come si andrà avanti? Cosa succederà? Ma io intanto dico che anch'io un po' di amarezza c'è quando si perde un'autonomia. Fin dall'inizio ho detto che poi non mi permetto di criticare o meno un provvedimento del Ministro, io sono di nomina ministeriale quindi non sarebbe giusto entrare nel merito. Però lo faccio comunque dicendo e rassicurando prima di tutto me stesso perché evidente è un po' una creatura nostra l'autorità portuale è giovane come è, prima di me c'era il vicepresidente attuale della regione Campania, Fulvio Bonavitacola, quindi abbiamo costruito insieme agli imprenditori, a tutti gli operatori del porto, tutte le maestranze, un'autorità portuale importante e un porto importante. Siamo ai primi posti anche a fine 2015 di crescita europea quindi voglio dire abbiamo le spalle forti per affrontare il futuro. Dico però che da questa punta di amarezza che c'è perdendo l'autonomia voglio trarne le possibilità di grande vantaggio che potrebbe avere Salerno, il suo territorio e la regione insieme a Napoli. Mi piace guardare al bicchiere mezzo pieno insomma. Sì, anzi io vedo il bicchiere più pieno che vuoto per la verità e faccio anche riferimento a una prima lettura di questo provvedimento del Consiglio dei Ministri di questi giorni quando si parla del Comitato di Gestione. In questo momento tra due o tre mesi e per i prossimi due o tre anni si costruiranno le fondamenta della logistica dei prossimi vent'anni, trent'anni. Che significa questo? Che il Comitato di Gestione dell'autorità di sistema che dovrebbe avere sede a Napoli in collaborazione con Salerno costruirà il futuro. Ci sono anche tanti debiti, qualcuno si preoccupa che la crisi di Napoli possa in qualche modo far affondare anche il porto di Salerno che fino ad oggi ha invece mostrato una faccia di grandi successi, record di numeri, lei stesso in più occasioni ce li ha ricordati. Io credo di no, io credo di no, Napoli non può avere sempre questa tendenza negativa, Napoli per forza di cose dovrà cambiare pagina per diversi motivi, quando Napoli cambierà pagina se siamo insieme possiamo crescere, quando Napoli cambierà pagina se siamo piccoli, se restiamo piccoli con tutto il successo che abbiamo avuto potremmo avere noi qualche problema, quindi speriamo, io spero in un futuro sicuramente migliore.